Buonasera e benvenuti a Stasi e Maikola Chi piace buona e chi piace bionda A me piace riccia e bionda Allora signore e signori siamo per partire ufficialmente con il Sabatonote G7 Buonasera e benvenuti, questo è il Sabatonote più bello d'Italia G7 è scusato Allora visto che lo passiamo ogni sabato abbiamo deciso di farlo anche questa notte insieme all'animazione Allora Anthony mi accendi un po' la pista qui Allora guardiamo tutti quanti verso la console perché stiamo facendo il video ufficiale del Sabatonote E ci facciamo vedere con la mano al cielo Mamma mia ma quanti ne siamo Il console per voi, Marco suona DJ D20 Grazie Antonio Mamma mia ma quanti mi piace stare qui con voi Mamma mia ma quanti